Signore e signori buongiorno e benvenuti a bordo di Destinazione Havana by Havana Club e Sunbreak Special Edition. La durata del soggiorno sarà di otto giorni. Vi preghiamo di indossare i vostri occhiali da sole, di stendere i vostri asciugamani e di aprire l'ombrello. Vi preghiamo inoltre di spegnere i vostri cellulari e di abbandonare le vostre abitudini quotidiane. Infine vi ricordiamo che in questo viaggio è obbligatorio divertirsi. Ogni passeggero è dotato di un apposito pacchetto di viaggi. Osservate come iscriversi sul sito www.destinazionehavana.it. Durante la vostra vacanza rimanete seduti sotto il sole, esplorate la cultura locale e fate fiesta al fondo di lui. Nel caso di una giornata in spiaggia, indossate le maschere. Se un altro passeggero necessita di aiuto per indossare le maschere, vi ricordiamo che è un ottimo modo per socializzare. Durante le serate di festa, alcuni incaricati vi mostreranno la via più semplice che vi condurrà ai migliori locali di Cuba, posizionati nella parte anteriore, centrale e posteriore del viso. Nel caso vi sentiate assetati, vi consigliamo di assaggiare i deliziosi cocktail Havana Club. Per ogni eventualità potete trovare le vostre bottiglie di Havana Club sotto il sedile. Il contenuto va mixato solo con ricette originali. Il risultato finale deve essere degustato per intero ma sempre con moderazione. Ci stiamo preparando all'atterraggio, pertanto vi invitiamo a controllare che il vostro costume sia correttamente indossato, che il vostro bicchiere sia pieno e sollevato e che il vostro umore sia alle stelle. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a scoprire Cuba come non l'avete mai vista. Grazie a tutti.